Yo ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video pool, infatti quest'oggi è finalmente giunto il banner di Kid Buu Ultra Già sento tipo le fiamme sulle mani, sento brutte cose sul mio account, perché è un banner ultra, perché non è cambiato neanche stavolta E quindi raga sappiamo già cosa stiamo andando incontro, a sto giro però siamo preparati Abbiamo con noi un sacco di amuleti, infatti abbiamo il piccolo Kid Buu, il medio Kid Buu e attenzione anche l'Ultra Steady Kid Buu Quindi un Ultra Kid Buu ce l'abbiamo garantito, vediamo se troviamo anche quello a cui puntiamo Prima di cominciare vi chiedo come al solito, gentilmente, un like per il supporto sulla fiducia Vabbè chi invece fosse il nuovo del canale, per chi ancora non si fosse iscritto, potete rimettere all'istante premendo sul tasto qua sotto È gratis, mi supportate attivando la campanella, non vi perderete più nessunissimo video Grazie a tutti quelli che lo faranno, perdonatemi se sono un po' intasato ma appunto mi sono raffreddato Quindi le condizioni sono queste, raga vamonos e in bocca al lupo a tutti Eccoci qua, Banner, Ultra Rising, Magin of Calamity, raga vediamo un po' la Z power list E vediamo un po' quello che ci può capitare oltre a Kid Buu, tra chiaramente Abbiamo infatti Kid Buu Legends Limited, Piccolo Legends Limited, Goku Super Saiyan 3 Verde Legends Limited E Super Vegito Legends Limited A metterli tutti insieme non fate un personaggio buono Tralasciando un po' Kid Buu ma gli altri raga sono veramente Cioè è andato tutto, è andato tutto, già zencaiati, già platinati Non potranno fare più di così, quindi non benissimo Altri personaggi sparking side Facciamo un salto indietro di un po' di anni, quindi non benissimo Nemmeno qua praticamente abbiamo lo 0.35% di chance di non shaftare Che salgono allo 0.7 per lo step numero 2 Raga, andiamo chiaramente Non vi consiglio di pullare perché i Banner Ultra fanno un po' cacare E in più a maggior ragione siamo vicinissimi all'anniversario Rischioso? Proviamoci Per il content e perché a me Kid Buu piace un sacco Allora, siamo partiti ma mettiamo comunque la censura In modo da non spoilerarci eventualmente un fake out Ok, cielo rosso, 5 pod, vai Goku Cominciamo tipo ad accarezzare i nostri amuleti Ad accarezzare il ciuffo del kiddo Allora, ok, niente Super Saiyan Salta fuori qualcosa di bello da sta animazione No, è abbastanza standard Super standard animation Vediamo, vediamo Cominciamo con qualche extreme, qualche hero Anche tra gli extreme mi sa che non c'è niente di interessante da stellare, da pullare Ok Ok, tutta roba Pacco, Sparking, Legends Limited Partiamo così col Kid Buu sbagliato Ma va bene, lo stelliamo un pochino E Vegito God Allora, sarà un segno? Sarà un segno che Kid Buu vuole venire a me? Vediamo raga, spero che gli facciano pure uno Zenkai a breve Ora, ultra, rate per due Questo è importantissimo, Kiddo Questo è importantissimo Lisciati bene il ciuffo E portami fortuna Ok Un pod, non poteva essere qualcosina in più Uno? Va bene Va bene, gioco un pod Accontentiamoci Molto bella come animazione raga Per l'ultra rate per due Veramente ti dà un sacco di fiducia Va bene Vediamo un po' cosa ci salta fuori da sta multi Probabilmente lo Sparking garantito Un fake out, qualcosa del genere Tante hero Quello sicuramente Sì Eccolo qua, fake outino Che si ferma Sparking Wow Wow Bellissimo Ultra rate per due Andiamo avanti Torniamo allo 0.35% di chance Ok I capelli blu Tre pod Ma il cielo è verde Quindi o perdi Per un qualche miracolo Goku Ma mi sa che sei già troppo lanciato O quando ci salta fuori Un gran che di buono raga Vai Frieza Vai Frieza Credo in te Peccato Peccato Frieza Non ho grosse fiducia per questa pool Come per nessuna raga in realtà Come per letteralmente nessuna multi C'ho grossa fiducia nei banner ultra Sì Due sparking c'erano Quindi saltate fuori Gotenks Super Saiyan 3 Back to back a V1 Wow Bellezza raga Bellezza Quindi step numero 4 Almeno questo è gratis Non ci scamma Crono Crystal Regalaci Kid Buu Regalacelo Ritiriamolo fuori qua No Meglio metterlo via Cielo verde Cielo per fare anche un doppio skip Tranquillo proprio E ne valsa la pena Va bene Primo giro Si sapeva che non saremmo mai partiti troppo bene Cambiamo il porta fortuna Passiamo al piccolo Kid Buu Piccolo Kid Buu Portaci un po' più di fortuna del medio Kid Buu Ok Ok Siamo nello spazio Kid Buu Stiamo nello spazio Kid Buu Goku è lanciato Pugni nella pancia Pool de oro Una qualche animazione spicy perdi Vegeta Vegeta Così de botto Vediamo raga Vediamo raga Vediamo raga Se ci combinano qualcosa di buono Kid Do Kid Do Ti voglio Kid Do Kid Do Ultra Please Non quello Legends Limited Allora Hero 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 Un bellissimo Slug Extreme Sparking Ok Sparking Ancora tu Gotenks Basta Altra Altra Sparking Questo è raro Questo ce l'ho poche stelle Però anche stica Va bene Ultra Raid per 2 Vuol dire 2 Kid Buu Vuol dire 2 Kid Buu a portarci fortuna raga Ultra Raid per 2 2 Per di Kid Do 3 Pod 3 Pod 2 in più no 2 in più no Sono loro i pod mancanti raga Siete bellissimi Va bene Doku Stai per Con cosa che hai fatto Oh no No Broly no No Broly no No Broly no Vabbè possiamo schippare Bello Bellissimo piccolo Bellissimo piccolo Gotenkid Gotenkid Ok Certamente Certamente Magari ci salta fuori anche l'Ultra Così Di punto in bianco Tra queste Hero No Chill ed Ultra E manco sali di stelle Infatti perché questi banner qua Ti danno 600 Z power Degli altri personaggi che trovi Manco il doppio Ancora più schifo Come tipo di banner Che è il cielo Blu nel ghiaccio raga Well Legends Non lo so Non ho speranze in questi banner Lo sapete Vai Goku Un bel pull blu Vinci così di nerfia Frisa manco ti risponde Va bene Va bene Cosa ci procurerà questa bellissima multi Dai dai Dammi qualcosa di Qualcosi decente C'è un personaggio decente E non è lui E non è assolutamente il got del tier feature Ora che il tier feature Manco c'è più Altra sparking Goku Instant Transmission Kamehameha Direttamente Dalle multi proprio Dall'animazione Che porta male Chiudiamo anche questo Secondo giro Step 3 Ultra Ultra skip raga Ultra skip in due istanti Quindi Quindi Terzo giro Startiamolo Stiamo andando rapidi Tanto qua si shafta facile Quindi Pam 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 Tutti qua con me Tutti qua con me Tutti qua con me Tutti qua con me State qua con me voi State qua con me Non fate apparire un Legends Limited Vi prego No no Fate apparire un Legends Limited Voglio l'animazione blu Voglio l'animazione blu E quantomeno Kid Buu Legends Limited Basta sto Goten Anche basta questo Goten Va bene Ci abbiamo sperato Ultra Raid Due per Vi riprendo qua Proviamo accoppiate mai fatte Loro due da soli Dai Ok Che ci fosse una Sparking garantita Già lo sapevo Taupai Grazie Cielo rosso Pool rosso Una Super Saiyan Vediamo Vediamo Siamo nel Raid per 2 Tutto può succedere Ma proprio tutto può succedere raga Please No Questo non ci rende felici Altra Sparking E penso sia l'ultima Bello questo Lord Slug Molto molto bello Molto molto belli questi Raid per 2 Andiamo avanti Ci avviciniamo pure alla chiusura di quest'altro giro Praticamente Sì Super Blue Purple Perfetto Ah ok Lei 250 Z Power di lei Tipo la cosa migliore subito dopo Kid Bull Legends Limited Che mi è capitata Dopo tutti questi giri Sì Sì Perfetto Perfetto Android 16 Penso che mi faccio ancora un giro raga E E son tentato di mollar lì Non vorrei Azzerarmi totalmente Prima dell'anniversario Costa a me Ok Teniamocelo buono Quest'Ultra Raid per 2 Teniamocelo buono Teniamocelo buono Kiddo Ti desidero tanto Per piacere Salta fuori Chiudiamo qua il video E siamo tutti contenti Sì Cielo verde Grazie Molto gentile Sai esattamente come in Francia E risogna il True Legends Animazione veramente molto bella Vediamo un po' Vediamo un po' raga Che brutture ci possono saltar fuori No good No good Ultranate per 2 Una Sparking Gone Kid Yell Oh Legends Quindi step numero 3 Poi c'è il Free E poi raga Venite qua Venite qua voi due Venite qua voi due Però siamo nel ghiaccio Non mi fido Non mi fido Perdi Goku No perdito detto Goku Però non è apparso bro Vediamo raga Vediamo Ma la puzza di Legends Limited È altissima C'è la sento La sento Anche col raffreddore Ok Tac Tac L'abbiamo odorato a distanza Sto Super Vegito E' un bellissimo Dispo Red Per non farci mancare niente Ultima pullata del video raga E no Non è stato un video pull soddisfacente Ma meglio fermarsi Meglio riconoscere la sconfitta Prima dell'anniversario Magari mi farò ancora qualche pull off screen Ma non voglio Non voglio triggerarmi Ecco L'ultima chance Vegeta Portaci Kiddo Portaci questo bel Kiddo Ultra Portaci questo bel Kiddo Ultra Su 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 Guarda come gli sto dicendo il ciuffo E va buo E va buo Janemba Se vuoi proprio apparire subito così Dai una bella animazione blu così Out from nowhere No Devi sparire dalla mia vista Butenks Sparisci fast dalla mia vista Butenks Mamma mia Mamma mia Raga Vi auguro di avere una fortuna migliore della mia Ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti Ciao Ciao Report Ciao Ciao Ciao